ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come a pochissimi giorni dalla finale di amici wax fa esplodere il caso sui social il suo racconto a maria de filippi divide il web manca solamente una manciata di ore ormai all'attesissima puntata conclusiva di amici fissata per il 14 maggio 21 tra i talenti superstiti spicca il cantante milanese wax al secolo matteo lucido dopo le recenti invettive contro critici e giornalisti rei di aver stroncato le sue più recenti esibizioni la produzione di amici ha deciso di ricongiungere il performer alla famiglia dopo lunghi mesi di lontananza all'inizio del percorso di wax all'interno del programma maria de filippi aveva rilevato la sua spiccata indole scostante litigiosa e subodorando la presenza di qualche trauma irrisolto nel suo passato lo aveva affidato all'empatica risa per un confronto confidenziale il cantante aveva rivelato alla coach di provenire da una famiglia conflittuale e frammentata e di avere buoni rapporti solamente con la madre e con il fratello ha nominato a stento il padre facendo intendere che egli avesse atteggiamenti troppo irruenti nei confronti dei familiari e ha dichiarato io facevo sempre ridere mia mamma quando era disperata ha inoltre aggiunto che quando l'aveva contattata per annunciarle di aver superato le selezioni del talent era felice ma sentivo urlare di sotto il video scatena sospetti in rete dopo otto mesi di lontananza wax ha finalmente rivisto in video i propri genitori essi dopo un emozionato saluto lo hanno invitato a raggiungerli in studio il cantante ha reagito con palese commozione commentando inoltre non ci credo che siete qua non ho parole l'allievo di amici è poi corso tra le braccia della madre e del padre quest'ultimo gli ha chiesto di cantare davanti a loro e wax ha afferrato il microfono senza esitazioni il cantante ha quindi eseguito davanti ai genitori parte del suo inedito e al termine dell'esecuzione essi hanno commentato ricorda che siamo la cassaforte della tua libertà l'affettuoso ricongiungimento ha però seminato parecchi di sapori in rete alla luce di quanto emerge dal video i rapporti di wax col padre sembrerebbero tutt'altro che tesi e conflittuali le accuse incendiarie sui social al di là dei prevedibili commenti entusiastici per la riunion familiare alcuni utenti hanno biasimato wax per le dichiarazioni fornite in precedenza nel programma circa i genitori uno di essi ha dichiarato ma io non ho capito per mesi ha parlato della sua vita difficile con una situazione particolare in famiglia in cui sembrava quasi avesse conosciuto il significato della violenza e poi si scopre che ha una famiglia normalissima e che lo ama sua madre è addirittura una pittrice affermata quindi non è neanche povero qualcuno ci ha capito qualcosa grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video ciao 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 ciao